No, è anche divertente in realtà. Dipende dal momento, perché quando giocano e se te giochi lì con loro ti danno un sacco di soddisfazione, però quando vai ad interromperli o a dirgli facciamo qualcosa, lì è un dramma, sì. Fare le attività. Sì, oppure fare la lezione mentre altri non la fanno. Che in quel punto lì nasce il, ma lui non la fa, ma lui sta giocando. Vorrei fare un gioco tutti insieme, magari non gli piace il gioco e quindi metti.